Ciao a tutti, sono Marco oggi voglio presentarti questo horror, questo film horror, dal titolo Gli orrori di Frankenstein prodotto dalla Hammer, famosa casa editrice di famosi film horror, bellissimi film horror degli anni 60 che tra l'altro hanno, gli attori famosi che hanno fatto questi film hanno soprattutto Christopher Lee e Peter Cushing su questo film gli interpreti sono Ralph Bates e Kate O'Hara film prodotto nel 70 regia di Jimmy Songster praticamente il protagonista del film per esaudire i suoi sogni uccide il padre, eredita, quindi eredita un castello e una cospicua eredità si trasferisce negli Stati Uniti per completare i suoi studi in medicina per poi ritornare nel suo paese in Inghilterra e assieme a un suo amico da vita ad un mostro con vari pezzi di cadaveri allora come al solito ti metto sotto il link sotto il video i due link per vedere il film e buona visione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti